Grazie a tutti. Facciamo, spegniamo? Ah no, è vero, non puoi spegnere per la... vedete lì sopra? No, non troppo. Io fra l'altro ho le slide nere. Ora sì. Ok? Si vede? Sì, a me va benissimo, io ce l'ho qua. Allora, l'idea era quella di fare queste prossime ore piuttosto interattive. Volevo prima di tutto mostrarvi cos'è Open Street Map e come si differenzia dall'offerta commerciale attualmente esistente di dati geografici, come si differenzia dai dati geografici forniti dalla pubblica amministrazione, come si differenzia dai dati forniti da Google o comprabili da voi da Teleatlas o Naftec. Perché esistono i dati geografici? Perché molto spesso viene associata una licenza, che è una cosa da mai sottovalutare quando si parla di dati. E poi andavo a mostrarvi qualche esempio, qualche applicazione interessante dei dati di Open Street Map e nella parte successiva vi farei vedere effettivamente cosa si può fare in pratica su una città come Bari. Ieri siamo stati a fare un brevissimo giro nella città vecchia, abbiamo raccolto qualche informazione varia, che poi vi mostrerò, cose alla portata di tutti, dove non è necessario avere strumentazione particolare, niente che non sia un pezzo di carta e una matita, non serve GPS, non serve macchina fotografica con funzionalità EXIF o altro, serve solo o la memoria o un pezzo di carta e una penna. Interrompetemi quando volete, se hai domande da... se c'è qualcuno collegato che fa domande me lo riporti tu e io parto. Devo stare di lato perché per qualche motivo il mio PC non mostra mai il monitor di quello che faccio quando proietto. Il progetto è nato nove anni fa in Inghilterra, il motivo per cui abbiamo cominciato il progetto era legato al fatto che in nessun paese europeo erano disponibili dati geografici liberamente, utilizzabili. Quindi abbiamo iniziato raccogliendo informazioni. All'epoca si stavano diffondendo i GPS non nei cellulari, ma quelli portatili, Garmin, ma anche quelli cosiddetti mouse, che assomigliano veramente a un mouse di un computer. Sono degli oggetti grandi più o meno così, con una batteria praticamente illimitata, dura due settimane acceso il mio, ed è in grado di memorizzare le mollichine dei pane, mentre mi muovete come Ansel e Gretel. E quindi vi dà la posizione dove siete stati, in che ora siete stati in quel posto. Mettendosi insieme, e qua arriviamo al concetto di crowdsourcing di OpenStreetMap, siamo riusciti a costruire uno schema generico di una città. Questa, non so se ne riconoscete la forma, ma è Londra. Vedete i ponti, vedete il fiume Tamigi che l'attraversa, e notate le parti più trafficate dove le persone effettivamente andavano più spesso. Questa è la prova che, immagino, conosciate OpenStreetMap, poi vedremo dei risultati, è la prova che la cartografia, la raccolta di informazioni geografiche si possa fare dal basso. Non è una cosa da delegarsi alla pubblica amministrazione o a grosse società, quali Navtech o Teleatlas o Google, ma è una cosa che le persone possono fare singolarmente. Singolarmente si occuperanno ognuna del proprio quartiere, ma strada per strada, quartiere per quartiere, riusciremo ad avere una mappa precisa e dettagliata e aggiornata di tutto il pianeta. Questa, infatti, è la vision, secondo me, di OpenStreetMap, quello di avere una mappa che sia aggiornata, sia disponibile in maniera completa e che sia disponibile ovunque. Il problema, ovviamente, secondo me, deve anche essere disponibile gratuitamente e con una licenza open. Aggiornata. Secondo quello che è un concetto abbastanza diffuso nella nostra comunità, i vantaggi di una mappa basata sul OpenStreetMap sono tre, e adesso ve li andrò a dettagliare. Una mappa deve essere aggiornata, perché è una mappa vecchia di 50 anni, di 30 anni, o anche di un giorno, se succede un caso come quello di Haiti. Questa è una foto fatta sul campo ad Haiti. Qua vedete un GPS. La mappa caricata sul GPS è una mappa fatta, creata automaticamente dai nostri server nell'ora precedente. In quel periodo, una mattina di febbraio, avvenne un terremoto che distrusse completamente la città a Porto Prinza. Da un momento all'altro, alcune strade, che erano arterie fondamentali di trasporto locale, smisero di esistere. E quindi, se abituato a percorrere un'autostrada, non la potevi più fare, perché c'era magari un buco di una sezione crollata di un metro, quindi sufficiente a non farti più passare. Le mappe commercialmente disponibili nascono per essere rigenerate dai server di Navtec ogni quattro mesi. Solitamente fai un contratto, paghi tot migliaia di euro, ricevi la mappa su DVD dopo la release, come nelle release software, c'è una soft cut-off date, una data di messa in produzione, la data di realizzazione del master. Dal master si va alla produzione, la produzione lo manda al reparto di shipping e viene spedito in tutto il mondo, il CD con sulla mappa dell'Italia, aggiornata a fondamentalmente un anno prima, nel momento in cui ti arriva. Con la tecnologia che abbiamo messo in piedi dentro ad OpenStreetMap, siamo in grado di rendere disponibile la mappa un minuto dopo l'aggiornamento. E quindi, in questo caso, arriviamo ad avere una quantità di dati che non solo è enorme, ma è anche estremamente up to date. Vi dicevo, le tre qualità che secondo me le mappe devono avere per essere buone sono il fatto di essere aggiornate, il fatto di coprire un'area estesa del pianeta, verosimilmente tutto il pianeta, la terza caratteristica è che devono essere profonde e quindi devono raccogliere non solo informazioni importanti per quel qualcuno che ha fatto quella versione di dato geografico, ma devono essere importanti per tutte le persone. Quindi se a qualcuno interessano i parchi, i cittadini, a un altro interessano le panchine e a un altro interessano i pali della luce, secondo me debbono essere tutti compresi in un'unica mappa. Poi sarà il singolo utente finale della mappa a raccogliere i dati prelevando solo ciò che gli interessa. Se uno è interessato a dare una visualizzazione o fare qualche lavoro GIS legato ai lampioni, deve avere la possibilità di estrarre i lampioni. Noi, in OpenStreet, faccio un inciso, non abbiamo il concetto di layer che voi potreste avere dal studio GIS. Non esiste il concetto di layer. Non esiste perché quando abbiamo ideato il concetto non esisteva un modo per scrivere e leggere layer in tempo reale. Probabilmente il fatto che non esistano layer è un sottoprodotto dell'incapacità tecnica dell'epoca perché abbiamo deciso di costruire la mappa basandoci su una metafora legata ai web services, a un concetto di API, di collegamento fra il nostro sistema e gli editor remoti che si interfacciano con il nostro database. Quindi non esiste il concetto di layer. Puoi estrarre i dati, puoi trasformarli in layer, però a quel punto sono sul tuo computer, sul tuo sistema e li utilizzi come fossero layer cartografici in QGIS o in ArcGIS. Proseguo con le tre caratteristiche. Aggiornata deve essere completa secondo me, quindi ci deve essere veramente qualunque cosa. Questo è un parco a qualche decina di chilometri da casa mia. Si chiama Minitalia, è una riproduzione in piccolo dell'Italia e su OpenStreetMap c'è. Ho verificato settimana scorsa, ancora oggi su Google non è presente e non è presente neanche su Bing. Vi può sembrare una sciocchezza, se volete, però abbiate una società che si occupa di vendere prodotti ai parchi a tema e quindi vendete, che so, materiale da costruzione per le passatoie all'interno dei parchi a tema. Questo è l'unico sistema per cui avreste la possibilità di sapere quanti metri lineari di passatoie pedonali ci sono all'interno dei parchi a tema italiani. Sono tutte piccole sciocchezze. Il fatto che io aggiunga la strada dietro casa mia singolarmente non ha valore. Il valore di OpenStreetMap è la comunità che sta dietro OpenStreetMap. Il fatto che ci sia una base utenti ipotetica di 2 milioni di persone che in un qualunque momento possono attivarsi o essere attivate da eventi esterni o da interessi particolari e contribuire alla mappa. Haiti, ad esempio, il caso che vi ho mostrato prima, nel giro di 48 ore. Anzi, vi farei vedere già, giusto per avere delle statistiche. Ecco, qua avevo dei dati di... Questi sono i dati di Haiti. Vedete come nel giro di pochi... Questo qua è un dato precedente al terremoto. Questo è il giorno prima del terremoto e già vedete che per qualche motivo la base utenti su Haiti era aumentata e questo è normale perché il numero di utenti raddoppia ogni sei mesi. Questo è il giorno del terremoto, il 15 gennaio del 2010. Questa è la quantità di dati presenti su Haiti. Come vedete, nel giro di pochissime ore siamo passati da 96 a 180 utenti attivi su Haiti. La quantità di dati non è aumentata di molto ma se vedete, da 60 che eravamo in megabyte di dato il 16 di gennaio siamo passati in neanche due settimane a 240 megabyte. E ha un numero che è circa 10 volte il numero di utenti iniziali. Questo solo perché si è rivelato importante raccogliere dati. I dati venivano effettivamente utilizzati. E anche questo è un feedback interessante perché se tu fai una modifica su Google Mapmaker e poi non la vedi oppure qualcuno decide che non è pertinente a me è successo. Ogni tanto provo a fare delle modifiche corrette su Google Mapmaker. Su 10 che ne ho fatte me ne è stata accettata una fino ad oggi. Cose che io ritengo essere invece legittime. Banche chiuse che non esistono più e invece loro utilizzano il dato proveniente dall'istituto bancario che dice che la banca c'è ancora invece non c'è più. Magari c'è solo lo sportello del banco ma è rimasto e magari è aperto solo in estate. Cosa che succede ad esempio dove vado io al mare in estate. In inverno lo tolgono quindi non ha senso lasciare un banco aperto segnalato su una mappa. Avrebbe magari senso segnare che è aperto solo durante i mesi estivi. Questo è uno dei grossi vantaggi e l'altro grosso vantaggio di OpenStreetMap. Vi metto purtroppo l'altra caratteristica importante è che come voi potete fare una query su Bari ed estrarre i dati di Bari così la potete fare su qualunque altro punto del pianeta e come avete visto prima l'immagine di dettaglio della Minitalia questo è un parco cittadino in una città nel nord della Nuova Zelanda esattamente accessibile nello stesso modo cambiate le coordinate cambiate il tipo di dato che volete estrarre e lo estraete. Un'altra cosa di cui vi vorrei parlare è il fatto che le fonti dati possono essere prelevate da altre tipologie di... Allora volevo parlarvi del fatto che le fonti possono essere varie e l'ispirazione che abbiamo avuto per OpenStreetMap nasce chiaramente da Wikipedia dove il concetto di modifica minima è importante dove chiunque può fare una modifica che è limitata anche ad esempio al singolo punto e con il fare questa modifica fa una... applica un miglioramento al database ogni volta che voi aggiungete una cosa è un qualche cosa che qualcun altro che verrà dopo non dovrà più fare quindi gli avete semplificato la vita anche se fate come su Wikipedia se scrivete una riga quello che loro chiamano stub non state facendo male al sistema state facendo una piccola contribuzione poi arriverà il wikipediano che dirà no, qua ci va il box con i link l'info box a lato va categorizzata sono tutte cose che a loro parlo di coloro perché io non sono particolarmente wikipediano ci sono regole interne alla comunità c'è gente che è appassionata dell'enforcement di queste regole e caricano queste informazioni cito Wikipedia perché poi andremo a caricare nella seconda parte le foto che abbiamo fatto ieri su Commons e vedremo come visualizzarle all'interno di un sistema basato su OpenStreetMap questa è una teoria abbastanza assodata che all'aumentare della qualità del dato il prezzo dei dati geografici scende e non aumenta negli ultimi anni avete visto la diminuzione del prezzo dei navigatori di automobile non solo perché il prezzo dell'hardware è sceso ma perché il dato geografico all'interno del sistema è sceso di valore perché ci sono stati altri sistemi non solo OpenStreetMap ma anche l'alta disponibilità di mappe online e offline con i cellulari ha fatto scendere il valore percepito del dato cartografico interno in realtà la mappa è migliorata molto ci sono anche provider quali Google hanno un aggiornamento più veloce e non perfetto però si stanno organizzando neanche OpenStreetMap è perfetta però io ritengo che possa solo esserci un miglioramento nel dato questa era una cosa che avevo messo per un discorso legato a quello che vi dicevo prima di di Wikipedia così come le enciclopedie cartacee sono andate a scomparire ritengo che provider commerciali prima o poi debbano rivedere le proprie politiche e probabilmente scomparire anche loro vi volevo far vedere un'altra cosa su cosa su quale siamo partiti anni fa per OpenStreetMap questo era il dato geografico disponibile all'epoca questo era il tipo di informazione che potevi avere a disposizione se volevi rifare ex novo una mappa andavi in una biblioteca facevi la scansione di un libro in cui non valesse più il copyright fatta la scansione lo ritracciavi con un software GIS e ottenevi il vettoriale l'intuizione di Stiva il fondatore del progetto è stata quella di dire prendiamo un sistema globale che possa accettare modifiche da tutto il pianeta e dove la gente sia libera di caricare qualunque tipo di informazione questo fa fa venire meno una delle grosse limitazioni dei dati geografici della pubblica amministrazione ad esempio che molto spesso sono molto dettagliati ma sono anche molto territoriali la pubblica amministrazione dico una sciocchezza ma la pubblica amministrazione di Bari non ha i dati di un comune del Molise a solo quelli di Bari se voi avete bisogno di creare un workflow per un vostro servizio che sia replicabile facilmente non ha molto senso farlo basandosi sui dati della pubblica amministrazione perché dovreste ricrearvi il workflow una seconda volta ha molto più senso che andiate a fare le modifiche e i miglioramenti su OpenStreetMap per poi utilizzare lo stesso workflow sul secondo sistema dovete fare una mappa cittadina di Bari ma poi magari il vostro business cresce e dovete farla a Pescara non dovrete più cambiare nulla se non coordinate partner commerciali sul territorio e le varie pubblicità eventualmente questo è il risultato di un mapping party fatto circa otto anni fa uno dei primi mapping party in cui a partire dal dato grezzo di questa mappa e da una campagna sul sul posto di un fine settimana siamo riusciti a passare dall'avere una mappa fondamentalmente vuota ad avere quantomeno un primissimo risultato navigabile con sistemi di routing basati su algoritmi già preesistenti quindi è quello che vi voglio far passare come concetto in questo punto è che è possibile farlo ed è possibile farlo da soli ma è possibile farlo ancora meglio con un piccolo gruppo di persone sul territorio a un certo punto vi farò vedere se è bloccato vi va bene se lo lascio così vedete o è troppo piccolo proviamo purtroppo ricomincia da zero si blocca lì per qualche motivo infatti volevo mostrarvi questo questo è Pompei come rappresentato ancora oggi da Google Maps come vedete manca qualunque cosa sia legato agli scavi archeologici nel 2008 sai meglio tu che ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato ieri 2009 ho organizzato al ponte dell'Immacolata una mapping party a Pompei questo è un bellissimo servizio di Geofabrik che è una società tedesca che si occupa di dati OpenStreetMap e vi mostro ancora oggi com'è la situazione e fa la comparazione mette a confronto nella stessa pagina le mappe di vari provider adesso mi aiutate a trovare Pompei dove dimmi Vesuvia Vesuvia è qua sotto porti circolano e qua verso il mare non ci aiuti no avvicinati avvicinati per segno aspetta che lo ingrandiamo così ercolano portici portici no sotto è sotto eccolo qua guarda bravo scafate come vedete dalla foto questo è la dimostra c'è un totale scollamento fra la realtà e quello che è la visualizzazione sui provider classici questo è il aspetta dov'è mi sono ecco ecco qua questo è il questi sono gli scavi come vedete sono visibili chiaramente nelle foto aeree ma se guardate la rappresentazione manca il manca il dato questo è bing non c'è nulla non c'è nulla non c'è nulla per un motivo perché il loro processo è ben definito c'è una una serie di regole interne che vengono date da Microsoft alla società che gli fa la cartografia scusate probabilmente è Navtech che fa la cartografia e poi la vende a Microsoft c'è all'interno della società un regolamento dovete mappare solo le strade che appaiono essere alla foto aeree più larghe di 4 pixel che hanno un colore che hanno un colore compreso fra questo indice e quell'altro indice solo se si trovano all'interno all'esterno delle proprietà polisi aziendali perché devono gestire l'ISO 9000 e quindi devono uscire con un prodotto dove poi nel caso in cui vengano citati in tribunale possano dire no noi abbiamo fatto questa strada non c'è perché questa strada non è presente sullo stradario cittadino Pompei non c'è sì sono due fondamentalmente c'è Navtec e Teleatlas sì 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 esatto Navtec sì Navtec è stata comprata da Nokia e Teleatlas è stata comprata da TomTom e quindi quelli sono non ci sono altri globali che poi globali non sono perché in molti stati europei non esistono mappe comunque e anche in Italia è arrivato abbastanza tardi la cartografia dettagliata mi ricordo che i primi anni in cui comprai un GPS d'automobile dicevano di avere il 95% delle strade che non è tantissimo perché il 95% sono bravi tutti a fare l'autostrade la gente poi non va solitamente la destinazione di una persona non è in autostrada è qualche stradina sperduta della immensa campagna italiana e immagino che qua abbiate ognuno di voi mi possa raccontare un esempio di mi sono perso perché stavo cercando di andare là e quindi secondo me è importante avere una base utenti locale che vada a rappresentare il proprio territorio in maniera coerente con quanto siano le regole di una comunità più grande regole che non sono ferre dettate da una policy aziendale soggetta poi a ISO 9000 e al giudizio degli avvocati perché sennò ci citano in tribunale perché abbiamo detto di svoltare a destra su una scala a un signore a Venezia e questo ha svoltato a destra sulla scala e è sceso nel canale cosa che succede? c'è anche un corso sbagliato cioè è abbastanza imprecisa quella di per esempio che ci siamo trovati guarda la curva in alto sì questa non è proprio uguale anche la anche la il pulmone a sinistra dove c'è il parchetto su SM la satellite in effetti non torna neanche un po' sì ha fatto un po' poligonata magari da vicino oppure sì però sembra sì qua forse sembra qua sembra esserci un un cancello magari l'hanno fatto non lo so sì questo non vuol dire che su OpenStreetMap non ci siano persone che da che vadano a fare la mappa di Haiti e se ne stanno comode a Francoforte e mappano cose sbagliate la conoscenza del luogo è fondamentale perché riesce a distinguere un oggetto da un altro oggetto che visto in foto aerea è identico quindi non alcune cose non le puoi non le puoi materialmente riconoscere è meglio sicuramente meglio occuparsi della propria zona in alcuni casi si riesce anche a mappare in lontananza o a fare import o a caricare dati o a fare quello che si chiama armchair mapping quindi fare mapping senza uscire di casa col braccio appoggiato alla sedia però è sempre meglio conoscere bene il posto qua nessuno da da remoto potrebbe dire che è senza sapere il contesto che questa è Pompei infatti dall'India dove hanno fatto verosimilmente la restituzione vettoriale della foto aerea non sapevano cosa fosse e non l'hanno segnalato questa vi rende voi che avete a che fare col turismo o avrete a che fare col turismo locale potrete vi rendete conto quanto sia una risorsa potente poter visualizzare oggetti che gli altri non sono in grado di visualizzare l'utilizzare OpenStreetMap è secondo me la soluzione a parte dei vostri problemi perché non vi obbliga a dover reinventare la ruota e a dover prendere un sistema vuoto un GIS vuoto caricarvi tutti i dati creare una visualizzazione e poi andarla a pubblicare avete già un sistema fatto che può essere adattato e che riesce a molto spesso venire in incontro non sarà perfetto ha dei problemi che non avreste nell'avere un sistema totalmente chiuso vi arriva il cd col sistema chiuso il dato non cambia lo elaborate lo utilizzate come volete lo pagate il pagamento che fate a OpenStreetMap è il fatto di avere un sistema in costante evoluzione e quindi succede a volte che la gente rompa le cose e voi le dovete andare a riparare o dovete contattare qualcuno che le ripara vengono cancellati a volte vengono spostati o cancellati o modificati i tag dei dati e quindi non avete più la possibilità di se avevate un rendering basato su certi tag quel rendering viene meno perché quel tag non c'è più poi ci entriamo in questa cosa esco di qua e torno alle slide ecco questa è una cosa che anche questa ci tenevo a dirvela OSM nonostante sia un progetto legato vagamente all'open source così come software open source molto spesso utilizzato in molte società che snobbano l'open source OpenStreetMap vi sfida a trovare una società che si occupi in qualunque modo di geografia che non sta utilizzando OpenStreetMap in questo momento che lo faccia per analizzare i propri dati e vedere quanto sono coerenti che lo faccia per utilizzare un geocoder che lo faccia per validare qualche altra informazione chiunque si occupa di dati geografici oggi sta usando OpenStreetMap in un modo o nell'altro che sia per che sia per un motivo o per l'altro qualcuno lo sta usando quindi non mi sento più di dire che è un progettino da farsi la domenica sta diventando qualcosa di importante che vale la pena di seguire e se avete interesse anche commerciale fare la licenza adesso non so più infatti la prossima la prossima slide per fortuna la licenza parlo spesso di soldi e di OpenStreet ma è una cosa che in altre comunità non è molto ben visto il parlare di soldi in Wikipedia non è ben visto anche nelle comunità OpenStreetMap legate al il concetto di soldo non sempre è ben considerato per noi è invece una cosa abbastanza importante perché la comunità per qualche motivo vede il valore di quello che sta facendo è il poter fare business su OpenStreetMap poiché è importante mantenere la mappa aggiornata è importante che ci sia qualcuno che abbia un interesse commerciale a pagare dei propri dipendenti per mantenere la mappa aggiornata perché la mappa abbandonata è una mappa vecchia è una mappa morta ed è una mappa esattamente come quella di Teleatlas quindi è importante che ci sia qualcuno pagato per farla e se trovate un modo locale a Bari per farvi pagare per mantenere aggiornata una mappa perché traete beneficio da questa la comunità è solo contenta perché il giorno in cui la comunità di Pescara avesse bisogno di informazioni sul dato geografico di Bari può contare sul fatto che ci sia persone che la tengono curata e aggiornata questo è questo è garantito dalla nostra licenza che recentemente è stata variata da una CC by SA quindi legata al Creative Commons a questa che è stata scritta apposta per noi e adesso comincia ad essere utilizzata anche in altri ambiti ed è compatibile con le licenze italiane la con la più diffusa in Italia è la IODL la Italian Open Data License la nostra è compatibile permette di ha fondamentalmente le stesse clausole di una CC by SA però è scritta appositamente per curarsi del concetto di dato e per curare il concetto di normativa legata al diritto sui generis sui database che è figlio della della legislazione europea sul database in pratica vi permette di fare attività commerciali sul dato che scaricate da OpenStreetMap a patto che se migliorate il dato stesso siete obbligati a contribuire il dato all'interno del sistema se il dato è fit opportuno per l'inserimento in OpenStreetMap quindi se scaricate da OpenStreetMap il dato geografico di Bari e vedete che mancano l'80% delle panchine e le aggiungerse nel vostro GIS e poi pubblicate a pagamento una mappa con le panchine dovete obbligatoriamente ricondividere il dato e quindi pubblicare quantomeno la posizione di queste 80 panchine su un sito web e dire le abbiamo inserite in questa mappa che è in vendita queste sono l'80% delle panchine mancanti OpenStreetMap per favore caricatele non siete obbligati voi a caricarle certo se lo caricate voi stessi la comunità è contenta perché come dicevo prima avete fatto quel puntino alla fine di una frase di Wikipedia e non lo deve più fare qualcun altro di lavoro ce n'è tanto da fare ci sono molti dati poi a un certo punto ne parlerò ci sono molti dati provenienti dalla pubblica amministrazione che necessitano di inserimento in OpenStreetMap quindi di lavori da fare ce ne sono se volete collaborare anche più su scala nazionale o planetaria l'importante è che quindi che ricontribuiate il dato all'indietro che attribuiate la fonte da cui avete ottenuto l'informazione l'attribuire la fonte è fondamentale per aumentare la consapevolezza dell'esistenza di OpenStreetMap ed è stata una delle due chiavi importanti assieme alla clausola di ShareAlike per far sì che il progetto si espandesse come vi dicevo prima è molto più semplice caricarlo un dato su OpenStreetMap e utilizzarlo in un workflow definito che non scaricare il dato da OpenStreetMap miscelarlo con i vostri dati e poi lavorarci da soli o creare il vostro workflow in casa perché questo vi permette di beneficiare delle modifiche successive al sistema la clausola di ShareAlike obbliga chi vuole utilizzare il dato OpenStreetMap a caricare il proprio dato su OpenStreetMap ed è una clausola che è cosiddetta di viralità fa sì che tutto ciò che entra in contatto acquisisca la licenza di OSM e questo è importante è stato importante negli anni e lo è ancora oggi per far sì che il momento del progetto cresca con il crescere del database siamo arrivati ad alcuni gigabyte di informazioni su tutto il pianeta è la più grossa banca dati di questo tipo disponibile di me le license pack di OSM dicono sostanzialmente fanno degli use case e tra questi use case ce n'è uno che spiega quali sono i lavori cosa si può definire come lavoro derivato e cosa invece non lo è la domanda che ho è nel momento in cui un ente utilizza diciamo miscela un dato proprietario con OpenStreetMap questo non si può fare di fatto perché ovviamente la viralità della licenza viene non è applicabile nella misura in cui non lo puoi fare con la GPL se tu mantieni all'interno del tuo sistema senza renderlo disponibile all'esterno lo puoi fare come con la GPL poi sei libero di creare General Public License quella di Free Software Foundation sei libero di portarti in casa un software GPL modificarlo creare dei moduli aggiuntivi utilizzato all'interno avresti l'obbligo morale di ripubblicarlo però non hai l'obbligo di legge nella nella licenza di distribuirlo puoi mischiare dati teleanclas con dati osma a fatto che non li distribuisci in nessuna forma in nessuna forma in nessuna forma il quale sia la forma che fa da trigger per l'obbligo di distribuzione è ancora da da vedere le licenze come qualunque cosa che abbia a che fare con il diritto d'autore è è a un'applicazione nel momento in cui c'è una causa legale che obbliga un giudice a decidere perché il copyright è sulla nostra testa la protezione del diritto d'autore sulla nostra testa ed è figlia della convenzione di Berna del 1861 quindi esiste che noi lo vogliamo o no il fatto che noi ce ne disinteressiamo non vuol dire che non esista il fatto che io faccio uno scarabocchio su un foglio di carta mentre aspetto dal dentista quel scarabocchio è protetto dal diritto d'autore anche se io ovviamente non vado a scrivere copyright 2013 Simone Cortesi la scritta stessa copyright Simone Cortesi 2013 non vale è un aggiungere un'informazione ridondante perché quel disegno è già copyright Simone Cortesi nasce dal diritto d'autore dalla protezione sul diritto d'autore la protezione intellettuale è sempre garantita a meno che come qui tu rinunci ad alcuni diritti io rinuncio al mio diritto di non essere copiato rinuncio al rinuncio al diritto che tu non possa fare una coppia di quello che io ti ho dato e ridistribuirla ti chiedo soltanto di essere citato il Simone Cortesi del del caso del quello è l'attribution ed è il mio diritto morale rinuncio però in questo caso ai diritti patrimoniali non ti chiedo soldi perché tu tu non puoi prendere il mio disegno e pubblicarlo insieme ai disegni degli altri che vanno dal dentista e pubblicarci un libro quello sarebbe perché è copyright di ognuno di noi che andiamo dal dentista e facciamo i disegni sul foglio quello non lo puoi fare qua invece rinuncio a questo diritto e ti dico vai e fai quello che vuoi di questi dati e guadagnaci copiali guadagnaci vendili fai quello che ti pare si si qua non c'è però ricordatevi che la licenza c'è sempre a meno che non ci sia scritto che la licenza non c'è se in assenza di licenza esiste comunque una licenza e questo è sempre su qualunque cosa quella quella foto là dietro sul cartellone ha una licenza tu non la puoi non puoi fare una foto della foto e metterla su una tua pubblicazione perché c'è un fotografo che ha speso energie ha sistemato le luci ha preso l'uovo ha preso il guantone da box e ha fatto quella foto e poi c'è un'altra persona grafico che ha fatto tutto tutta la scritta tutto il il let ha sistemato i font e ha pubblicato quella cosa è ridondante l'informazione è ridondante quando vedete copyright la scritta copyright la scritta chi è il detentore del copyright no perché ti dice chi è eventualmente la persona da contattare per sì le varie le varie indicazioni su alcuni siti web trovate le foto sono state trovate su internet sono state ritenute di pubblico dominio sono scemenze non esiste il pubblico dominio su su ciò che non sai cos'è quando non sai cos'è è vietato c'è una confusione fra libero e libero di libero di sfruttamento c'è una cosa che è spiegami no no non in noi dico ah sì 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 certo certo l'utilizzo di queste ma questo è di google images tutti dicono oh scrivo la trovo su google images è mia come su no infatti non a caso ti permette di fare la ricerca per tipologia di copyright no oppure è flicker che ti permette di farla flicker e istock photo e corpis quelli sì sfruttamento commerciale e non sfruttamento commerciale sfruttamento commerciale oppure una citazione una citazione sì che è sufficiente questo è questa è una cosa su cui dobbiamo combattere credo noi anche così come la pirateria delle mappe degli altri deve essere combattuta l'utilizzo sui pieghevoli a stampa con l'immaginetta di google presa ritagliando via il copyright secondo me deve essere combattuta così come deve essere combattuto l'abuso di software Microsoft accopiato illegalmente è uno dei grandi danni fatti al software libero e alla conoscenza libera vado avanti dopo essermi un po' infervorato questo secondo me è quello a cui dobbiamo proseguire per essere stavo parlando prima della competitività del progetto rispetto a rispetto al rispetto al resto dell'offerta commerciale di dati di dati ce ne sono tanti sappiamo che ne stanno arrivando altrettanti è importante localmente però alcune amministrazioni potrebbero essere partner utili per ottenere su scala piccola l'informazione una volta che questa informazione è nel sistema è più facile tenerla aggiornata e vive di vita propria e molto spesso è più aggiornata del sistema stesso da cui è partito poi vi farò vedere qualche esempio di visualizzazione dove vi faccio vedere che alcuni dati ritenuti anzi no ve li faccio vedere subito questo lo teniamo magari aperto io ho avuto contatto con OpenStreet ma penso che l'ho provato da 7 sì sì diciamo di una prima occhiata e la nota mi sembrava ovviamente molto grezza molto molto popolita ho avuto contatto con OpenStreetMap dal punto di vista dell'utilizzo sei utente OpenStreetMap da ora a ora lo sono diventato cioè l'ho fatto adesso no dico l'ho usata ho provato a usarla moltissimi anni fa quando forse era ancora uno stadio abbastanza alfa infatti mi ricordo molto bene che non l'ho diciamo non sono andato avanti e ho usato Google Maps da allora perché c'era diciamo il dato non era a parte che il dato era ancora in forma ma anche da un punto di vista grafico era molto scarno adesso mi sono reso conto che adesso mi sono reso conto che questo gap è stato colmato e volevo capire anche sì dimmi ho visto il concetto di layer su OpenStreetMap che effettivamente è un po' diverso sono non c'è sì no nel senso sul sito ha delle altre vere e proprie cartine lui tipo ho visto sono andato su Bari ho visto la cartina delle biciclette i percorsi dei trasporti che sono visti come strati cioè come cartine diverse cioè lui fa solo delle sovrapposizioni dello stesso gist questo è per semplificazione perché assolutamente ma è una semplificazione che è figlia non della geografia ma è figlia della cartografia la cartografia è quella scienza barra arte dove un cartografo bravo è in grado di far capire all'istante a una persona che guarda una cartina cosa cosa è cosa è importante per la persona che sta guardando se tu fai una mappa di Pompei non farai vedere le non so dov'è l'illuminazione pubblica dentro a Pompei farai vedere il percorso da farsi se vai lì come turista se però sei l'Enel che ha l'installazione dei pali della luce farai vedere non il percorso per il turista ma farai vedere se sei il cartografo dell'Enel dove sono i pali della luce il concetto di layer è una semplificazione di questo ti dà meno libertà però ti dà la possibilità di attivare e disattivare sei tu a decidere attivo attivo dove sono i cestini e attivo dove sono i pali della luce questo non c'entra nulla velocissimamente una domanda veloce e poi ti lascio continuare stavo notando che però che l'interazione e forse è una prossima slide che l'interazione sostanzialmente si limita alla navigazione all'interno della cartina e non ha tipo una non ha il puntamento su non ha il puntamento sull'indirizzo non ha il non puoi dire c'è tipo google maps schiaccio cosa c'è qui cosa c'è qui il famoso cosa c'è qui è in realtà non ne parlo perché è una prossima feature del sito web ah ok ecco è una cosa che il produttore mi dai la possibilità di fare una distinzione all'interno della allora open street map è nato da un gruppo di persone di cui facevo parte anch'io all'epoca ed è nato dalla necessità di avere questi dati ci siamo messi abbiamo cominciato a scrivere codice per far sì che nascesse un'api che è in rest una restful interface che permetta di comunicare il dato tramite xml e ricevere il dato indietro in xml questo l'intento di queste prime persone si è trasformato poi a essere l'intento di una fondazione che si chiama open street map foundation che è la fondazione che detiene di fatto il copyright del progetto e rende disponibile questo cede a sua volta quindi il copyright a tutti nuovamente e ha come finalità quelle di mantenere ad alta disponibilità il database a cui chiunque può partecipare per inviare dati o ricevere dati indietro l'invio è quindi l'invio è mediato da username e password lo scaricamento dei dati non è mediato da username e password questa questa fondazione ha come statuto quello di mantenere il database solo il database non ha come statuto quello di fare attività che possano aiutare commercialmente altri l'obiettivo è quello di rendere disponibile l'API e rendere disponibile ogni minuto le diff rispetto al minuto precedente del database e il mercoledì notte scusa la notte fra martedì e mercoledì durante la nottata viene generato il dump settimanale al quale tu volendo ti agganci per poi applicare le diff orarie o al minuto tu ti agganci lì e a quel punto avrai un sistema che è aggiornato al minuto questo fa non c'è ti do la carta poi no io ti do il dato ti do il dato quello che vedi tu sul quello che vedi su OpenStreetMap è un servizio agli utenti perché è comodo andare lì vado lì vedo l'ultimo aggiornamento so che questo rendering sebbene brutto è è stabile però è sempre lì so che viene aggiornato so che ha i dati freschi mentre se vado su altri provider commerciali di mappe OpenStreetMap non so mai anche lì non so mai quando a quando viene riferito il dato può anche essere vecchio di un anno e quindi avere poco senso questo è comodo è una distinzione che molto spesso mi viene mi viene chiesta perché in effetti non c'è una chiarezza fra cosa faccia OpenStreetMap.org e OpenStreetMap Foundation che sta dietro al progetto io fra l'altro sono io ho fatto ho servito per 4 anni nel consiglio di amministrazione dell'OpenStreetMap Foundation in Inghilterra e nel periodo fra l'altro brutto in cui abbiamo dovuto gestire il cambio di licenza ci abbiamo messo 3 anni per un errore di gioventù di aver scelto una licenza che non era perfettamente adeguata al nostro sistema fra l'altro una cosa che vi dico dato che parlo di cose corporate in Italia non esiste attualmente un OpenStreetMap Italia diciamo stiamo valutando di farlo eventualmente per incorporazione a Wikimedia Italia perché abbiamo visto che gli scopi sebbene in ambiti diversi sono comunque legati alla microcontribuzione degli utenti a un progetto molto ampio e probabilmente entro i prossimi mesi riusciremo a trovare consenso nella comunità per fare questa incorporazione commerciale dimmi fatto presupposto del componente share a like della licenza quali sono i i modelli di business tipici che si fanno che le aziende utilizzano basandosi sui dati di OpenStreetMap Estrazione di dati gestione del flusso di dati conto terzi caso tipico è tu potresti dirmi Simone ho bisogno ogni tre mesi che tu mi dia l'elenco delle scuole italiane comprensive della coordinata comprensiva del nome e comprensiva del numero di abitanti che abitano nel comune in cui è localizzata la scuola per me che potrei anche avere un sistema in grado di fare questa cosa è un'operazione di scrivere quattro righe di codice ed eseguirla per te azienda che hai bisogno di questa informazione per andare a fare marketing sulle scuole sulla preside delle scuole avrebbe un costo elevato perché dovresti andare da un altro provider di questo dato che so seat pagine gialle e chiedergli lo stesso servizio potresti chiederlo a un altro potresti avere bisogno invece di come ci potrebbe essere qualcuno che invece ha necessità di avere una mappa locale ti dico molto spesso mi capita di vedere nei bar in cui vado in giro per l'Italia le tovagliette classiche con le pubblicità intorno al bordo e una mappa bruttina al centro a volte l'ho vista anche copiata paro paro da google queste cose sono attività che potresti chiedere a una società e dici voglio che tu mi tenga ogni sei mesi mi rifaccia lo screenshot e me lo visualizzi in una determinata maniera di quella mappa la mappa voi probabilmente siete abituati a vederla qui la mappa ma esiste quella di quella di map questa ad esempio la questa si si poi ci arrivo poi ci arrivo questa è la mappa di questo è open street map vedete sotto però è totalmente diversa graficamente rispetto all'altra si avvicina un po' al gusto italiano della touring club a queste pubblicazioni a stampa di qualche anno fa non ha nulla a che fare con quella che abbiamo visto con quella che abbiamo visto prima con questa con questa la versione tedesca di quella di destra è fatta da questa società tedesca che si chiama Geofabrik è diversa questo è un servizio che potresti che si potrebbe essere la base di una società a fornire rendering specializzati su non leggo niente questa è open whatever map dove vengono mischiate tutte le visualizzazioni disponibili di open street un tile alla volta questo è lo stesso dato sono attivati layer diversi ad alcuni non interessa nulla di sapere che in Corsica c'è un aeroporto a nord e un aeroporto a sud infatti se vedete qua non sono visualizzati gli aeroporti questo è in bianco e nero questa è quella che si chiama toner adesso andiamo subari poi questo è un giochetto non è niente di scientifico però vi da l'idea di quanto vengono attivati o disattivati i layer per mostrare una cosa rispetto a non mostrarla il dato potrebbe esserci sotto ma non lo vedete l'unico modo di vedere il dato è andare a vedere effettivamente cosa c'è dentro al sistema in OpenStreetMap lo fate semplicemente dimmi quando hai fatto lo vedete semplicemente andando questa posso questo ad esempio noi siamo qui ieri ho aggiunto questi quattro palazzi potete andare qui scusate no non lì layer potete cambiare layer e quindi attivare quello della cycle map che mette in evidenza le fontanelle dell'acqua potabile i percorsi le piste ciclabili i percorsi sanciti da qualche accordo comunale provinciale per cui quella è una pista ciclabile di interesse regionale la pista ciclabile che permette di andare dal mare adriatico al tirreno quella che permette di andare collega tutti i capoluoghi di provincia lungo la dorsale partendo da Santa Maria di Leuca a risalire quella del trasporto pubblico che è una cosa che a me mi interessa particolarmente vi farei vedere andate vi invito ad andare a vedere quella di Google Maps nonostante la mappa di Bari su OpenStreet non sia particolarmente curata per quanto riguarda il trasporto pubblico quella di Google Maps è totalmente assente c'è solo la cosiddetta metropolitana che va in aeroporto qua c'è qualcosa in più qualche qualche percorso di qualche il C non so magari sapete voi cos'è c'è una navetta che va in università che è qua vicino e va verso il centro questa è la cycle map come vedete c'è piste ciclabili c'è qualcuno che ha un negozietto e vedete che i dati escono i dati escono questo che avete visto è il lavoro di quattro cartografi diversi cartografo che ha deciso mostro un'immagine generica di open street map di Bari mostro qualcosa che è interessante per i ciclisti infatti le autostrade sono secondarie all'aspetto grafico non sono importanti come invece su una su una strada statale su una strada su una visualizzazione autocentrica autocentrica è anche quella di Google Google non interessano i diversi utenti della strada interessano le macchine fondamentalmente il traffico questo è il trasporto pubblico che secondo me è una di quelle cose su cui si potrebbe pensare di fare molto se vuoi ti faccio vedere subito una cosa che ho fatto mi è piaciuta molto umanità umanitaria ah sì questo e questa e qua ovviamente non c'è nulla però è bella e questa è l'altra di map questa vi faccio vedere ad esempio Pavia dimmi la questione per esempio delle piste ciclabili sì cioè è utile ma non lo so anche rispetto al discorso sulla fisicità che facevamo ieri non lo so però è utile mappare diciamo delle barriere o comunque delle questioni cioè delle cose fisiche che non ti permettono di andare per esempio in bicicletta in qualche in qualche in qualche